A giro di pizza, gira e gira e stiamo usando l'alba, usando la famiglia, stiamo usando la mattina a sera. Ecco a me, e a manezza, e papà, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque. E non è meglio morire da piccoli con i peli del culo abbatuffolo, che morire da grandi zaioli con i peli del culo marinati. E così è. Andiamo a fare un regista, facciamo un film di pilo. Ecco qua, signori, benvenuti nella ristorante pizzeria Caffè Umuart. Umuart. Più vivo che Umuart. Poi facciamo pizze di detti colori, facciamo pizze con verdura, vedete, un pochettino di verdura fresca. Facciamo un pizzico di quattro formaggi, vedete, facciamo un pizzico di quattro formaggi, veloce. Facciamo un pizzico di salamino, salamino piccante, naturalmente, tutta roba tocca, tutta roba proveniente tocca, niente roba pezzutata, niente roba metro, tutta roba italica. Eccoci qua. Uno, due, tre. Certo che io gli abbiamo fatto l'anfornata. Mi siamo contandati. Ma perché non mi sono stato a riardo io? Che cazzo sono venuto a fare? Tu sai pure qui. E stai usando la pizza. Stai così pure in un paese io. Io l'ho bello tranquillo. Chi me l'ha fatto fa? Chi me l'ha fatto fa? Chi me l'ha fatto fa? E viva la rotina. E viva. Non apre mai. Questo più particolare, come vi faccio vedere, la pizza ciccio dedicata al mio amico Francesco, di Bridelli. E qui se mangiamo sempre la pizza ciccio. Eccola qua. Mettiamo un uomo. Senza scoza però, eh. Senza scoza. Ecco. Un po' di salamino piccante. Un po' di prosciutto buato genuino. Roba di maiali paesani, no? Quegli maiali brutti del solito padova là. Ecco qua. Un po' di cipolla che ha la cipollina bella, bella. La frescica. Eccola qua. Passiamo alla messicana. Messicana con una pizza. Messicana. Salami piccante, gorgonzola e mais. Perché sennò che messicana è? Ecco qua. Un po' di mais. tradotto in inglese. Raurigno. Mais. Raurigno. I tutari. I tutari. I tutari. Un pizzico di aglio. Perché il messicano, il messicano è un ragazzo che io si mangia l'aglio, eh. Abbiamo un po' con la pizza. Iniziamo con la lucetta. E ora, le buonanotte ai suonatori. che signori da Caffè al Mar. Tutto. 廣坂 di ragazza di denom letà! amendazione del tuo amico街. Alla uscola da Caffè al Mar. Ciao a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.